Nell'arte, realtà e fantasia spesso si confondono, il reale diventa visione, il sogno diventa realtà, questo perché nella scelta dei soggetti o attraverso una particolare tecnica, in uno stile, in un genere particolare, l'artista riesce a creare l'atmosfera, cioè quel qualcosa che avvolge l'immagine e che ti permette di entrare nel dipinto, proprio per andare a cercare, per andare a scoprire quella che è la sua vera essenza, il suo significato più profondo. Ora, reale è tutto ciò che esiste effettivamente e che noi possiamo trovare in una figura umana, in un paesaggio, un oggetto, così come quotidianamente lo vediamo. Spesso contrapponiamo questa realtà al sogno, a qualcosa che consideriamo irrazionale, proprio perché va al di là del pensiero logico. L'irrazionale ha però un suo fascino, attrae, proprio perché ciò che è irrazionale viene spesso considerato più vicino a quella che è la sfera dei sentimenti e delle emozioni. I sentimenti non si comandano, quindi non rispondono alla ragione, ma suggestionano l'individuo, generano intorno a sé una particolare atmosfera. Nell'arte tutto ciò che coinvolge la sfera emotiva e sentimentale diventa quindi surreale, diventa fantastico, diventa immaginazione, ma può diventare anche realtà, verità. Avvolta però in una particolare atmosfera. In questa puntata di Punti di Vista andremo a prendere in considerazione artisti che raccontano la realtà, perché sicuramente la loro pittura è una pittura figurativa e si ispira a temi e forme realistiche, ma attraverso atmosferi che risultano surreali e che quindi ci accompagnano nel mondo delle visioni, che sicuramente è un mondo suggestivo, un mondo intrigante, in maniere e in modi molto diversi tra loro. Partiamo da un artista come Leonardo Beccegato. Nei suoi lavori Beccegato comunica emozioni surreali. Le immagini sono realistiche. Ci sono infatti figure, paesaggi, luoghi, ci sono ambientazioni che si riferiscono comunque a situazioni reali. Ma sono immagini realistiche avvolte in un'atmosfera che risulta strana, che le allontana dalla realtà. Le mostra quasi come fossero il ricordo di un tempo passato, come se fossero quindi il risultato di visioni della realtà. Cioè risultano suggestioni visive, suggestioni emotive. L'artista riesce a descrivere il luogo, a descrivere quello che è l'ambiente in cui le figure si muovono. E lo fa cogliendo le sfumature cromatiche, cogliendo le sfumature di luce, giocando ad esempio sulla diversa intensità luminosa. Le scene sembrano quasi notturna, c'è una luce soffusa. Sono avvolte da una sorta di nebbia che dà proprio l'idea del sogno, l'idea di non reale. E poi c'è un'armonia compositiva che è delicata e che rende quindi queste immagini romantiche, liriche. I colori sono in prevalenza dei colori caldi. Ci sono queste tonalità dell'arancio, dell'ocra, varie sfumature di marrone che tende anche al nero, quindi che è spesso scuro. Oppure c'è il giallo dorato. In alcuni casi c'è persino un azzurro violetto che rimanda sicuramente ancora una volta a quella che è la dimensione del sogno, della dimensione onirica o del ricordo, della memoria. L'immagine così, nella sua totalità, risulta piuttosto ambigua. Ci si chiede ma è reale o è irreale? E quindi invita in un certo senso alla riflessione. Quindi lo scopo non è soltanto quello di guardare così il dipinto in superficie, ma di capire che cosa questo dipinto comunica, quale sensazione, quale pensiero anche l'artista vuole trasmettere attraverso il dipinto. E qual è il pensiero che Beccegato vuole trasmettere? Sono proprio le incertezze, i dubbi della società moderna, quelli che vuole mettere in evidenza. Come? Attraverso il silenzio, un silenzio che accompagna le immagini, un silenzio che domina sulle figure e domina sull'ambiente in cui queste figure sono inserite. Ma anche attraverso il senso di solitudine che si percepisce, per esempio, dalle espressioni dei personaggi. Oppure mostrando le figure in questo stato di abbandono, un abbandono che è un po' un abbandono al ricordo, alla memoria. Le forme sicuramente richiamano il classicismo, queste fanciulle sono formose, ritratte come delle statue greche. Però tutti questi elementi, tutti questi aspetti, questo silenzio, questo senso di solitudine, questo abbandono al ricordo e alla memoria, ci vanno ad indicare quello che è il peso, in un certo senso, della condizione umana. Attraverso la pittura Leonardo Beccegato raffigura così quelli che sono i sogni ed emozioni dell'uomo moderno. Cioè racconta i suoi ricordi, racconta la nostalgia che ha per il passato, per un'epoca che sicuramente era vibrante di poesia, di lirismo, di romanticismo. Quella poesia e quell'armonia che adesso si coglie solo nella pittura, perché la società contemporanea probabilmente è una società frenetica, è una società dinamica e quindi non ci lascia spesso la possibilità di abbandonarci ai nostri sogni e alle nostre visioni. Quindi questi sogni, queste visioni, le ricrea l'artista attraverso le sue opere. E in questo sta la dimensione psichica, la dimensione appunto quasi visionaria appunto che Leonardo Beccegato coglie attraverso i suoi dipinti. Una visione che è sicuramente intimistica, è interiore, una visione particolare di quella che è la realtà. L'artista vuole attraverso le proprie opere andare oltre la realtà e leggere dentro l'immagine, quindi nella parte più intima, più nascosta che l'immagine contiene. Sicuramente va oltre la realtà un artista come Alessio Serpetti. Alessio Serpetti riesce a fondere nelle sue opere surrealismo e simbolismo. Nella sua produzione, intanto diciamo che Alessio Serpetti si esprime attraverso una tecnica molto particolare che è la tecnica monocroma del carboncino, però su fondo dorato, quindi richiamando per certi aspetti quella che è la tradizione bizantina del mosaico. Cioè l'oro era il colore dominante nei mosaici bizantini. Bene, in questa produzione, in questi suoi lavori, troviamo delle suggestioni che sicuramente rimandano al passato. La costruzione dello spazio è una costruzione molto scenografica, è teatrale. Le figure che l'artista propone hanno un aspetto decisamente surreale, molto enigmatico. Ci sono tante allegorie, c'è simbolismo, le ambientazioni in cui le figure sono inserite sono delle ambientazioni decisamente oniriche, le atmosfere sono notturne. E questo uso del colore non colore, perché poi il carboncino è una sorta di bianco e nero, rende il tutto molto lirico, molto poetico. Ora, se consideriamo tutti questi aspetti, vediamo quanto sia complessa la lavorazione, o almeno quello che è l'intento, di Alessio Serpetti. Una complessità che sta proprio nei ragionamenti che si legano alle immagini. Quindi una complessità che accompagna l'idea, il pensiero. E che invece per l'artista diventa poi spontaneità. risponde a un'esigenza di fantasia, di immaginazione, di libertà, di evasione da quella che è la realtà quotidiana. Ho accennato a questo colore non colore. Il carboncino produce appunto immagini in bianco e nero. A queste immagini in bianco e nero l'artista aggiunge l'oro proprio per staccare, per contrastare, per accentuare forse anche quello che è l'aspetto visionario e surreale dell'immagine stessa. Quindi queste immagini comunque in bianco e nero indirizzano l'artista verso un'analisi introspettiva. Analisi interiore, analisi personale per evidenziare quelle che sono le sensazioni, le emozioni attraverso che cosa? Attraverso simboli, attraverso allegorie. Quindi in questo possiamo dire che appunto la realtà si fonde con il simbolismo e quindi la realtà diventa surreale, diventa quasi una suggestione fantastica, diventa un'atmosfera visionaria visionaria che viene accentuata anche da un gioco, un contrasto evidente che l'artista riesce a creare tra luci ed ombre. Sicuramente il bianco e nero accentua questo passaggio tra luce e ombra che poi è anche il passaggio dal giorno alla notte e quindi il chiaro della realtà e l'oscuro dell'irrazionalità della nostra psiche, del nostro inconscio. Quindi torna questo simbolismo proprio di fondo che accompagna l'immagine anche nei singoli elementi che poi troviamo nelle raffigurazioni in ogni lavoro di Alessio Serpetti. Un elemento importante e dominante che è legato al simbolismo è anche l'artificiosità che troviamo in queste immagini. In che senso? Queste figure sono delle figure imponenti, maestose, richiamano un po' quelli che sono i dipinti rinascimentali. Sono delle figure molto eleganti nella lavorazione, sono ricche di particolari, sono molto costruite appunto, ma sono anche delle figure quasi trasfigurate, alterate per esempio nelle proporzioni, proprio per accentuare, per andare a sottolineare quello che è il loro carattere simbolico. Ed è quindi questo simbolismo che dà ai lavori di Alessio Serpetti un aspetto immaginifico, un aspetto mistico e che ci riporta a quelle che sono le visioni della realtà, le atmosfere visionarie. Ogni elemento che compare nella composizione, che accompagna ad esempio una figura, un volto, ha un suo preciso significato che va d'accordo con quello che è il tema trattato o che si pone addirittura in contrasto con la tematica generale dell'opera. Possiamo vedere come quindi l'artista insista ancora una volta su questo dualismo tra razionale e irrazionale, tra realtà e surrealismo. La realtà viene descritta dall'artista attraverso quella che è la tecnica figurativa, cioè nei soggetti che propone, ma diventa poi visione nel momento in cui questa realtà si lascia in un certo senso sopraffare dal valore simbolico, dal valore enigmatico, dal valore surreale del significato che poi l'immagine va a prendere. Visioni della realtà troviamo anche in Cristina Bettin. In quest'artista c'è tutta una ricerca psicologica che poi va a tradursi in immagine. Intanto partiamo da un concetto, cioè Cristina Bettin raffigura la psiche umana. Come la raffigura? La raffigura secondo quella che è la tradizione greca, cioè una bellissima fanciulla con ali di farfalla. Ora simbolicamente la farfalla indica trasformazione, indica metamorfosi, quindi indica il passaggio da una dimensione all'altra e quindi il raggiungimento di una dimensione che è altra, che è diversa da quella di origine. Ebbene, attraverso i suoi dipinti Cristina Bettin ci porta così in un'altra dimensione che è la dimensione del sogno, che è la dimensione dell'irrazionale, che è la dimensione della visione. Il soggetto stesso dei suoi lavori è una visione della realtà, cioè la psiche che viene metaforicamente raffigurata come donna farfalla, una donna che non ha volto e che quindi non si svela mai al suo osservatore. e questo sta ad indicare la complessità anche della nostra mente, quindi non sempre conosciamo fino in fondo e comprendiamo quelli che sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti soprattutto. Attraverso l'elemento della farfalla Cristina Bettin esprime i contenuti della psiche, esprime cioè pensieri, idee, riflessioni, sogni, emozioni, visioni e così affronta la realtà raffigurandone i possibili cambiamenti, le possibili mutazioni. Sicuramente la realtà è fonte di ispirazione per quest'artista, cioè tutti i suoi interessi, le sue passioni, ad esempio la musica, la poesia o un gesto, un paesaggio che vede, un oggetto. Spesso poi cosa fa Cristina Bettina? Insirisce ad esempio pezzi anche di altri materiali, soprattutto specchi e anche nel tema, nell'elemento dello specchio torna la simbologia, lo specchio come riflessione di pensieri che mostra quindi quella che è la nostra anima. Quindi tutto viene presentato come una metafora. Sicuramente quindi la simbologia è il filo conduttore di ogni lavoro di Cristina Bettin. L'atmosfera così metafisica o surreale che si genera dall'immagine suscita una affinità molto sottile, mistica quasi tra il mondo visibile e l'invisibile. Cioè le sue figure risultano pur essendo molto realistiche quindi ispirandosi molto alla realtà risultano però come delle entità astratte e evocano quindi concetti situazioni evocano una realtà che va oltre il dato puramente tangibile però l'elemento simbolico serve proprio per parlare del quotidiano per parlare della realtà e serve per analizzare se stessi per riflettere sul proprio io sulla propria personalità interiore la mente di quest'artista non riposa mai è sempre alla ricerca di nuovi messaggi da comunicare da condividere e quindi la sua pittura risulta come una continua sperimentazione entrare nei dipinti di Cristina Bettin significa quindi seguirne la storia scoprire un sentimento assaporare una visione che si materializza che diventa reale pur mantenendo questa atmosfera che di reale ha ben poco quindi un bell'impatto visivo e un bell'impatto emotivo anche quest'artista sicuramente ci mostra come attraverso l'arte effettivamente riusciamo a confondere realtà e fantasia e forse proprio attraverso un senso di visione attraverso la simbologia attraverso quell'aspetto più concretamente surreale che ha l'immagine riusciamo in un certo senso ad evadere dalla realtà di ogni giorno e quindi a liberare così quelli che sono i nostri desideri i nostri sogni le nostre emozioni i nostri sentimenti che spesso però rimangono nascosti a presto con nuovi punti di vista a presto a presto